Piacere, Franco Zucca. Piacere, siamo i genitori di Arsene. Ma certo, in passi con Giordano. Mio figlio, lei è il padre di Christian. Ci siamo già conosciuti? No, ma vi somigliate. E noi abbiamo un appuntamento qui. Pure noi siamo stati convocati. Ma si può sapere perché? Buongiorno. Scusate il ritardo. Li avete portati con voi? Era implicito che io volessi vederli da soli. Mio figlio. Non può essere. E signora Presidente, è francamente ridicolo che lei possa anche solo dare un minimo credito a questa storiella. Arsene non riesce a nascondere niente. È un bambino. Deve trattarsi sicuramente di un errore. La polizia raccoglierà le testimonianze dei vostri figli. Sono ragazzini. E io devo avvisarla. Mio figlio non può affrontare... Io non posso non farlo. Non lo prego, abbia un cuore. L'hanno fatto una volta. L'hanno fatto una seconda volta. Lo farebbero una terza volta. Non s'azzardi! Pensi di essere un genitore migliore di noi per caso? Lei vuole solo denunciare, vero? Chi se la sente? Dobbiamo scegliere. Estraiamo a sorte. Be my home or dove You'll dance me To the end of love My home or where You'll dance me As you know For me Is to the end of love I love